Buongiorno a tutti, sono Andrea Borgatti, ho 31 anni, sono un architetto e abito a Saronno. Sono candidato portavoce per il Movimento 5 Stelle. Vorrei partire da questa affermazione, candidato portavoce. Per noi la persona che andrà in regione, sarò io, sarò qualcun altro, non è quello per noi la cosa importante, è un portavoce, qualcuno che porta gli interessi del cittadino all'interno della pubblica amministrazione, e in questo caso all'interno della regione. Per noi questo è importantissimo come concetto, perché noi crediamo che soltanto portando i cittadini, i cittadini semplici, normali, come possono essere io o i miei colleghi, all'interno della pubblica amministrazione, possiamo cercare di risolvere quelle che sono le problematiche che tutti noi riscontriamo all'interno della nostra bellissima Italia. Ci rendiamo conto che ci sono dei problemi legati a un ventennio, un trentennio di persone che sono sedute in Parlamento, sono sempre le stesse, fanno interessi di lobby e non quelli che sono interessi della popolazione e dei cittadini. Noi vogliamo fare piazza pulita di queste persone per portare finalmente di nuovo in contatto le persone con la Repubblica, che dal latino vuol dire res pubblica, cioè cosa di tutti. Per noi è importante riappropriarci di questa cosa che è nostra e che abbiamo pagato noi di fatto. Per noi questo è importantissimo. Come pensiamo di farlo? Prima di tutto portando trasparenza. Se noi, come abbiamo sempre fatto, come abbiamo sempre dimostrato di fare nel Consiglio Comunale, avete l'esempio qua di Bustassizio, Varese, Legnano, dove ci sono dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, abbiamo sempre cercato di portare trasparenza, ovvero tutto quello che succede all'interno del Comune, della Regione, della Provincia, della Nazione, viene pubblicato online, in modo tale che i cittadini sono quelli che possono andare a controllare che le persone che sono messe lì fanno il loro dovere. Per noi questo è importantissimo. L'abbiamo sempre fatto e abbiamo sempre dimostrato che il nostro interesse principale è l'interesse della popolazione. Porto alcuni esempi. Il più eclatante, l'ultimo, quello di Sicilia, in cui siamo diventati il primo partito della Regione. Le cose che abbiamo fatto sono state subito perfettamente coerenti con il nostro programma. Ci siamo insediati, abbiamo tagliato del 70% il nostro stipendio, abbiamo rinunciato a tutti i benefit, abbiamo rinunciato a rimborsi elettorali, quindi non promesse, ma cose già fatte. Siccome per legge non si può rinunciare, un parlamentare, un deputato, non può tagliarsi lo stipendio, deve per forza incassare quei soldi, l'eccedenza è stata utilizzata per fare un fondo, una cassa, la quale è stata utilizzata per fare microcredito alle piccole e medie imprese. Questo è il secondo punto che per noi è fondamentale, perché non siamo solo un partito che va a negare, che va a criticare senza proposte. No, noi invece le portiamo le proposte. La principale è la ripartenza della piccola e media impresa. Tramite una defiscalizzazione, in Regione lo si può fare, c'è un addizionale a IRPEF. La Regione può benissimo scegliere di premiare quelle che sono le aziende virtuose, per esempio, quali per esempio quelle che rispettano l'ambiente, oppure quelli che fanno il vero made in Italy, ovvero non dei maiali belga che vengono qua, prendono il timbro e diventano un prosciutto di Parma. No, le cose prodotte in Italia dai italiani possono avere il timbro made in Italy. Si possono fare tutta una serie di attività che vanno a tutelare le piccole e medie imprese, perché far ripartire la piccola e medie imprese è fondamentale. Il terzo punto invece della nostra campagna elettorale è molto semplicemente la solidarietà. Noi siamo assolutamente convinti, assolutamente dell'opinione, che per uscire da questa crisi l'unica soluzione sia quella di darci una mano l'un l'altro, di stare tutti insieme. Per questo puntiamo sul reddito di cittadinanza. Reddito di cittadinanza vuol dire che una persona può avere il tempo, può avere il tempo di scegliere il proprio lavoro, non ha bisogno di accettare la prima cosa che gli capita. Può avere il tempo per decidere cosa fare della sua vita, non si può morire di lavoro, come invece accade tuttora. La possibilità di tutelare anche le fasce più in difficoltà per noi è assolutamente fondamentale. Questo è fondamentalmente quello che vuole fare il Movimento 5 Stelle. Grazie. Grazie.